Il sistema di voto dell'Aula Consigliare di Palazzo Cernezi non si cambia. Dopo le polemiche delle scorse settimane, la Giunta di Como ha rinunciato alla spesa di circa 100.000 euro prevista per modificare il sistema che permette di effettuare le votazioni, vecchio di 19 anni ma funzionante. Il Presidente del Consiglio Comunale di Como, Franco Fragolino, aveva deciso di procedere con la sostituzione del sistema di voto elettronico della Sala Consigliare. Una prima indagine conoscitiva tra gli operatori aveva permesso di avere un'idea dei costi dell'operazione. Per installare microfoni, schermi e tabelloni al plasma, più nuovi, tecnologici e funzionali, Palazzo Cernezi avrebbe speso oltre 100.000 euro. Nel periodo della spending review e della guerra ai costi della politica, l'ipotesi non poteva che suscitare polemiche. In effetti era scoppiata un'autentica bufera. Ieri dalla Giunta è arrivato il dietrofront. Il vecchio impianto, almeno per il momento, non sarà sostituito. Rispetto agli impegni, alle priorità attuali si è deciso di soprassedere, ha sottolineato l'assessore ai sistemi informativi Lorenzo Spallino. Per il momento manteniamo quindi l'attuale sistema e speriamo che i malfunzionamenti dell'impianto, peraltro continui, non peggiorino. Tecnicamente non sono infatti possibili interventi di sostituzione. La proposta di bloccare e rinviare l'iter per il rifacimento del sistema elettronico dell'Aula Consigliare è stata presentata ieri dallo stesso Spallino e poi approvata dalla Giunta di Palazzo Cernezi. Al momento, aggiunto l'esponente del centro-sinistra Comasco, gli uffici avevano proceduto soltanto con un semplice avviso esplorativo, una sorta di indagine conoscitiva per individuare gli operatori economici da invitare poi alla gara. Tutto sospeso dunque, procedura rinviata a tempi migliori. Questo, nonostante lo stesso Franco Fragolino avesse spiegato, annunciando l'intervento, sono i costi della democrazia, precisando che un sistema moderno ed efficiente è una garanzia di trasparenza anche per i cittadini. L'assessore Spallino aveva invece insistito sul rischio che l'impianto saltasse da un momento all'altro. Le polemiche però hanno evidentemente prevalso sui benefici che il cambiamento avrebbe apportato. La spesa di oltre 100.000 euro, infatti era stata immediatamente contestata da tutti i gruppi di opposizione.